La mia prima scena è stata con Rocco. E com'è andata? Fantastico. 432 film, non è stanca? No, in realtà no. Ma lei quanto guadagna film? Medio 3.000 euro al mese. Al mese? Lordi, no, non è molto. Lei è ancora fidanzata? Sì, siamo una coppia aperta da 9 anni. Il matrimonio come istituzione è una cagata. Cosa pensa del caso di Asia Argento? Ma il Movimento Me Too si sta autodistruggendo. È stata un'occasione isterica per parlare del nulla. Non pensa che esista un problema reale di uomini in particolare che fanno valere la loro posizione dominante sul lavoro per ricattare delle donne. Succede anche il contrario. Esatto, succede anche il contrario. E credo ci siano tra l'altro abusi sul lavoro che siano decisamente più gravi di una mano sul culo o di una scopata sì, la faccio, però non vorrei.